I nostri 25 anni di esperienza, il nostro modo di fare, la cura artigianale, sono le vostre garanzie. Perché è con questi ingredienti che si ottengono prodotti di qualità. Dolciaria 2L, specialità dolciarie da forno fatte con materie prime selezionate mescolate alla nostra grande passione. Cornetti, brioche, saccottini, cannoli, occhi di bue e tantissimi altri prodotti di ogni genere e gusto. E anche le confezioni monouso ideali per la prima colazione, lo spuntino, per le attività commerciali che vogliono il massimo per i loro clienti. Produzione per bar, panifici, pasticcerie, alberghi, ristoranti, dolciaria 2L, via Duca d'Aosta, zona industriale, Condofuri Marina, telefono 0965 77 65 91 oppure 328 82 80 893.